Siamo tornati in diretta dopo le pausa che abbiamo fatto questi giorni di festa. Adesso vediamo un po' chi entra, siamo in diretta sui social, vi aspetto un attimino che entrate e poi partiamo con l'argomento di oggi che in questa occasione ho pensato di proporvi quegli ingredienti da inserire all'interno della vostra vita per il 2022. Quello che ho fatto io nel mio momento di decisione, di definizione di quello che erano gli aspetti fondamentali per il corso del mio 2022. Un anno che ho scelto di vivere in un determinato modo, con determinate parole, determinati ingredienti, appunto, come piace dire a me per parlare in ambito culinario. Ma adesso aspettiamo che entrate, visto che abbiamo fatto, chi è a casa durante questi giorni di festa, chi ha lavorato, adesso si sono conclusi, perciò con lunedì si è tornati, possiamo dire alla normalità e quindi torniamo anche con le nostre dirette del mercoledì. Vediamo un po' chi entra qualcuno, aspettiamo qualche secondo e partiamo con, appunto, l'argomento di oggi. Ciao, ciao. Benvenuti, benvenuti. Allora, vi ricordo che comunque tutte le dirette le potete rivedere all'interno delle varie pagine social oppure sul sito internet www.cirelli.eu. Lì troverete tutte le varie dirette che abbiamo fatto in passato e quindi potrete anche andare a commentarle se volete lasciare dei vostri commenti, delle vostre cose, dare degli input per migliorare insieme. Ma vediamo un attimo quali sono gli aspetti fondamentali che ci dovrebbero essere già definiti, comunque quelle cose che all'inizio dell'anno di solito si è abituati a fare per identificare quegli aspetti, quegli obiettivi, quei buoni propositi per l'anno nuovo. Di solito all'inizio anno abbiamo questa abitudine di dire quest'anno voglio dimagrire, quest'anno voglio fare questo, quest'anno decido di fare questa cosa. e con i primi giorni dell'anno poi passate le feste, sì ma all'inizio lunedì, dopo le feste, posticipiamo questa data. Oggi è passato lunedì, siamo al mercoledì, perciò in teoria se avete dato dei buoni propositi, se siete messi degli obiettivi da raggiungere, in teoria con lunedì dovremmo essere iniziati, quindi dovremmo avere iniziato a definire quali sono i passaggi da seguire. Quindi quali sono questi aspetti fondamentali che dovremmo considerare per definire quali sono gli ingredienti per questo nostro 2022? Gli aspetti fondamentali io li ho assunti con tre fondamenti, cioè quello della salute personale, dell'amore, del star bene, della relazione, perciò una fascia che è la salute, una categoria è il lavoro, l'economia, che è quello che ci dedichiamo maggiormente nella nostra vita, nel nostro quotidiano, visto che lavoriamo per otto ore al giorno, e l'altra parte, perciò la terza aspetto, il terzo gruppo che possiamo definire da cui serviranno tirare fuori degli ingredienti è le nostre passioni, cosa ci piace fare, i nostri divertimenti, i nostri hobby, gli sport, e tutte quelle cose che facciamo nel tempo libero. Come in cucina, anche in questo caso, possiamo definire che sono tre obiettivi, o uno vogliamo realizzare una crostata, in uno vogliamo realizzare un sugo, e nell'altro vogliamo realizzare una preparazione con la carne o col pesce, perciò abbiamo bisogno, per arrivare a realizzare delle preparazioni, degli ingredienti, perciò se dobbiamo fare la frolla, avremo bisogno del burro, se dovessimo magari usare un altro ingrediente è che non serve, cioè se mi realizzare la frolla non ci servirebbe magari, facciamo l'esempio, la carne, perché la carne non vale la frolla, a meno che non mi fanno ricetta con la frolla, ma se mi fanno una torta, ci sarà l'uovo, ci serviranno la farina, ci servirà lo zucchero, e quindi altri ingredienti non saranno necessari. Stessa cosa nel nostro creare gli ingredienti per il nostro 2022, dobbiamo definire quali sono, appunto come abbiamo già fatto all'inizio dell'anno, i nostri piccoli obiettivi, le nostre piccole cose che vogliamo fare durante quest'anno, e quindi andare a selezionare quelle cose di cui abbiamo bisogno, quegli ingredienti. Tra questi io vi ho fatto un posto, vi ho fatto un elenco di tutti gli ingredienti che mi sono venuti in mente, tra questi troviamo la realtà, la rettitudine, la costanza, la soddisfazione personale, l'onestà, la sicurezza, ma perché tanti di questi sono rivolti a noi stessi? Perché siamo persone, e quindi siamo noi a dover definire chi vogliamo diventare. Per fare questa pratica, per fare questa preparazione, ci serve quindi capire cosa dobbiamo ottenere. Per ottenere un determinato obiettivo ci serviranno quindi delle cose. Una secondo me molto importante è la costanza nel perseguire, perciò continuare a essere costanti nel ripetere la stessa azione per perseguire quell'obiettivo. Se uno volesse dimagrire, la costanza è quella di mangiare meno, fare sport, o varie cose, cioè non so, di decidere oggi vado a camminare tutti i giorni, oggi mangio meno, mangiare meno carboidrati, oppure definire un piano che potrebbe essere quello io vado da un nutrizionista che mi segue. Io faccio gli esempi su cose che ho vissuto in prima persona, per questo vi dico, ma una delle cose che ho notato e nel post che vi ho fatto proprio oggi l'ho voluta inserire è in questi due anni l'aspetto e la cosa che noi, l'ingrediente che abbiamo più bisogno è la resilienza, cioè quella capacità di essere resistenti e di reagire a cosa succede. Perché questa è una cosa che nel mondo di oggi e infatti negli ultimi decenni è diventata una cosa reale, costante, non solo nell'ambito fisico, ma anche per le persone? Perché siamo tartassati da molte cose, siamo presi e portati via da quello che sono i nostri obiettivi da molte distrazioni. Essere resilienti, che è una parola che io mi sono scritto in grande e me la sono messa di fronte alla mia scrivania, cioè io ho una cartella con scritto resilienza, perché questa parola è importante, perché secondo me è un modo per essere qualcosa di migliore, perciò è un modo per passare da chi siamo oggi a chi vogliamo diventare, mettendoli in pratica tutti i giorni, quindi essere oggi quello che vogliamo diventare domani. Perciò, se dobbiamo decidere quali sono gli ingredienti, per esempio per la salute, potremmo decidere che la costanza, la determinazione, l'impegno, ma anche magari il coraggio di sfidarsi, perché non è facile, esempio, in un ambito di salute, dire, oggi vado in palestra. Bene, è facile dirlo, ma metterlo in pratica, ma diventa più complicato. Oppure sul lavoro, voglio diventare un cuoco migliore, voglio diventare un professionista più capace, cosa mi serve? Mi serve formarmi, mi serve avere dei confronti, mi serve avere chi mi dà un supporto. E come ottengo queste cose? Molto semplicemente, dovrò avere dei punti di riferimento, quindi dovrò avere l'accettazione, di saper chiedere aiuto, dovrò avere la costanza nel perseguire, magari la ricerca o l'istruzione, magari proprio seguendo uno di questi libri e informandosi e leggendo e studiando. Dovrò anche essere in grado di trovare la mia soddisfazione personale quando ottengo un determinato raggiungimento, magari riesco a fare una preparazione che prima non sapevo fare, oppure ottengo un avanzamento di carriera. Ecco, questi sono alcuni esempi per arrivare a quelli che sono gli ingredienti per la nostra vita. Ricordiamoci sempre che nel corso del tempo questi ingredienti possono variare. Ci saranno delle parole, come esempio magari libertà, indipendenza, coraggio, avventura, amore, rispetto, che possono essere fisse, ma ce ne sono molte altre che invece variano a seconda dell'obiettivo che vogliamo raggiungere. Per esempio, io voglio essere coerente con me stesso nel perseguire l'obiettivo o il lavoro, perciò sarò coerente perché una volta che do una parola è quella che perseguo, ma magari non ho necessità di essere altruista perché devo essere per me stesso per primis. Poi una cosa che dobbiamo anche valutare è le distrazioni. Per esempio adesso qui ci sono i cani che abbaiano, è un fattore di distrazione, è anche uno di quei fattori che magari direbbe, beh aspettate, fermatevi che vado a chiudere la finestra, ma è una distrazione, cioè è un modo per togliere l'attenzione a quello che stiamo facendo. Può essere utile distrarsi nel momento in cui dobbiamo cambiare a prospettiva, ma può essere anche molto dannoso se ci continuiamo a distrarre e quindi non manteniamo la costanza e la determinazione e la presenza in quello che facciamo perché se non siamo costanti non potremmo ottenere l'esultato che abbiamo perseguito, quindi l'obiettivo o il buon proposito che ci siamo prefissati a inizio anno. Se sono chiaro fino a qui, per chi mi segue, spero che queste cose che sono io le uso come il termine perché mi piace usire ingredienti in ambito di formazione, di crescita personale, vengono esatti i valori. Ma per chi lavora nel settore della ristorazione, per tutti, perché fondamentalmente tutti abbiamo un approccio alla cucina, perciò abbiamo il momento in cui dobbiamo fare da mangiare la nostra pasta asciutta o le nostre due uova, cioè abbiamo un momento in cui ci dedichiamo all'alimentazione, perciò al nutrimento, e fondamentalmente apriamo il frigo e guardiamo gli ingredienti che ci sono. Il saper fare la spesa, perciò saper inserire nel nostro frigorifero tutti quegli ingredienti che si serviranno per fare la ricetta, è fondamentalmente lo stesso principio che sto proponendo a voi oggi, cioè andiamo a scegliere, andiamo a selezionare quella ingrediente, cioè perciò quelle paroline, quelle cose che avremo bisogno nel momento in cui dobbiamo realizzare un nostro obiettivo. Come dicevo, ci sono tantissime cose, ci possono essere veramente moltissime, io le chiamo ingredienti, cioè moltissimi fattori che ci vengono in aiuto. Il coraggio, il coraggio di reagire, il coraggio di chiedere aiuto, una delle cose molto difficili da fare oggi, perché chiedere aiuto è una cosa difficile, soprattutto nel momento che ci troviamo, non sappiamo più confrontarci con gli altri, perciò chiedere aiuto. Ci manca magari la libertà, perché visto la situazione geopolitica e Covid permettendo, insomma come se vogliamo dirla, la libertà di poter fare determinate azioni, di poter compiere determinate scelte, ci viene leggermente limitata, magari abbiamo bisogno quindi di libertà, dobbiamo trovare quelle cose che ci danno quella libertà di stare sereni, di avere il piacere di stare in compagnia, oppure l'indipendenza, che potrebbe essere l'indipendenza nel lavoro, perciò crearci un lavoro che ci renda remunerativamente tranquilli, perciò indipendenti, ma potrebbe essere un'indipendenza magari da un rapporto che va male, perciò dobbiamo scegliere gli ingredienti a seconda qual è il nostro obiettivo. la sicurezza è un altro degli ingredienti che mi viene in mente, essere sicuri quando realizziamo una preparazione, essere sicuri nel realizzare e andare a creare una passione, oppure perseguire una passione, la sicurezza nel fare un qualcosa potrebbe essere uno degli ingredienti che vi serviranno per questo 2022. personalmente tra gli ingredienti che ho scelto nei vari aspetti della mia vita ci sono tre ingredienti che è la disciplina, la costanza e la coerenza. Sono tre degli aspetti che ho selezionato e sono presenti in tutti i vari obiettivi che ho inserito. Ripeto, uno di quello che secondo me è l'ingrediente principale è però la resilienza, cioè quella capacità di resistere. Resistere perché? Perché oggigiorno come dicevo veniamo distratti. Oggi sono qui, domani vado là e quindi non mi prendo una decisione ma semplicemente seguo quello che mi viene detto da altri. Se invece voglio ottenere un risultato devo essere costante ma anche resistente a perseguire il mio risultato. Ecco perché la resistenza e la reazione anche a continuare a perseguire nel momento dell'insuccesso è un quattore importante. Quindi essere resilienti questa parola che è nata secoli fa ma che aveva significati non in ambito personale ma era in ambito fisico negli ultimi decenni però è diventata una di quelle parole che hanno allargato il loro significato e sono diventate molto importanti per l'aspetto personale. Quindi vi propongo magari di andare a vedere lo metto adesso magari nella storia finita la diretta quelle che sono le paroline che io vi ho proposto ma voi trovate le vostre come fate a trovarle? Valutando cosa vi serve per diventare o per ottenere quel risultato che avete selezionato nel corso di quest'anno magari volete migliorare il vostro rapporto nella carriera magari volete trovare un posto di lavoro migliore oppure semplicemente volete salire di livello e guadagnare qualcosa in più oppure che ne so volete cambiare lavoro cambiare professione decidete di fare qualcosa di nuovo beh tutto questo vi serviranno degli ingredienti vi serviranno quindi delle cose che vi aiuteranno a compiere queste azioni lo dico sempre lo scrivo anche nei post però lo ricordo se avete bisogno di un aiuto di un confronto di qualunque cosa io sono a disposizione è una cosa che dico sempre c'è chi mi ha contattato e quindi ringrazio la fiducia che mi è stata data ringrazio voi anche il tempo che vi dedicate perché non è scontato mi è capitato di dirlo anche proprio ieri in una zoom da tutor che non è scontato dare e fare qualcosa per se stessi è anzi una delle cose più importanti che ci sono oggi che prendersi del tempo ritagliarsi del tempo per qualcosa che ci aiuta bene adesso vediamo se ci sono domande se posso esservi ancora più d'aiuto spero di aver fatto capire quando è importante trovare gli ingredienti giusti quindi voi dovete scegliere dagli obiettivi che vi siete prefissati per questo anno quelle azioni da compiere e cosa vi servirà per raggiungerle quindi definire quelle paroline che sono un punto di la traccia per esempio i paletti che vi serviranno per raggiungere quell'obiettivo adesso vediamo se arriva qualche domanda intanto saluto chi è stato presente vi ricordo che la diretta sarà potete rivederla oppure chi non se ne è perso la può vedere indifferita e saluti ciao Emanuele ciao Asilio ciao Lucia non vedo gli altri dovete dovete salutarmi perché sennò non riesco a vedervi i commenti bene spedo che sono stato chiaro vi ricordo di selezionare quelle paroline che sono migliori per voi e se avete bisogno contattatemi iscrivetemi io sono a vostra disposizione per qualunque cosa se ci sono domande se no ci salutiamo e ci vediamo mercoledì prossimo per la prossima diretta con lo chef di cui parliamo anche di argomenti non solo di cucina perché questo è quello che dico sempre saper fare una ricetta non è l'unica cosa importante da sapere per essere un bravo cuoco quindi io vi saluto visto che a parte i saluti non arrivano commenti e noi ci vediamo appunto mercoledì prossimo ciao e alla prossima ciao